Se non ha necessitato il diritto di voto, secondo me è un grave errore che possa commettere la popolazione, anche perché il deciso del diritto di voto è un'espressione massima della democrazia. Relativamente al fatto che comunque il centro-destra in questo momento possa essere in vantaggio, ovviamente io ancora non sono in possesso di alcuni dati importanti o quantomeno degli ex-pol, dico sostanzialmente potrebbe essere un'innovazione, un cambiamento che noi ci occupiamo e speriamo che le cose nella nostra Sicilia possano andare per il verso di tutto. Quindi dare quel segnale di ricrescita e di eventuale possibile innovazione che noi tutti ci aspettiamo. Speriamo un bene.